I paradisi fiscali sono stati e sono tuttora al centro di molti dibattiti e casi di cronaca. Il nome già ci dice tutto. Un paradiso fiscale è un mondo dove imprenditori e contribuenti vivono molto pacificamente, con il fisco, per tassazioni e condizioni fiscali agevolate. Insomma, nei paradisi fiscali si pagano poche tasse o ci sono degli esgami comunque per pagarne pochissime. In alcuni proprio non si paga niente. Ma come sono nati i paradisi fiscali e quali sono i più famosi al mondo? Non è nato tutto dalle tasse in sé per sé, ma dalla segretezza di alcuni stati, dalla loro governance e poi infine anche dalla pressione fiscale. Tornando alla definizione di paradiso fiscale, se vogliamo avere un'idea un po' più chiara e definita, quello che possiamo dire è che un paradiso fiscale è quando in uno stato si pagano molte meno tasse rispetto alla media degli stati sviluppati. Tra l'altro questa media dovrebbe essere intorno al 40%, infatti l'Italia è sopra questa media e gli stati appunto come paradisi fiscali invece sono ben sotto, alcune volte prossimi lo zero appunto. Non solo però, c'è un altro fattore molto importante che dà i superpoteri e conferisce lo status ufficiale di paradiso fiscale e questo è proprio la segretezza e la privacy. Chiaramente questa cosa può essere intesa come riservatezza e quindi una qualità da un lato, però c'è chi la può intendere come scarsa trasparenza, quindi un difetto. Ed è proprio a causa di questa scarsa trasparenza che molti paradisi fiscali sono al centro di polemiche e di case di cronaca. Tant'è che esiste una vera e propria blacklist dei paradisi fiscali. Capire di preciso qual è stato il primo paradiso fiscale e com'è nato è difficile perché anche la definizione, come sapete, l'abbiamo appena visto, è un po' labile e anche le esigenze delle persone negli anni sono cambiate. Però possiamo dire che sono nati tutti intorno al XVIII e al XIX secolo d.C., quando appunto per la prima volta abbiamo notizia di alcuni stati che, per attirare capitali stranieri, hanno iniziato ad offrire poche tasse da un lato e segretezza dall'altro, guadagnando in cambio appunto capitali dall'estero, di persone che pur di scappare dalle tasse dello stato in cui erano residenti, sono trasferiti o comunque hanno trasferito i propri capitali in nuovi stati. Ok, vediamo un po' la storia di alcuni di loro, come per esempio la Svizzera, il Delaware, le isole del Canale, Panama e San Marino. Addirittura San Marino, che ad oggi non è paradiso fiscale, però anni fa era in blacklist. Tornando quindi al XVIII e al XIX secolo, il primo stato di cui possiamo parlare è appunto la Svizzera, famosissima. Uno stato che aveva già delle ottime premesse, in quanto era piccolo ed era famoso per la propria stabilità finanziaria e politica. Famoso infatti per essere sempre stato neutrale nelle guerre. E quindi già di per sé come stato era molto attraente per andare a preservare i propri capitali in stato di guerra o di instabilità politica, perché era appunto uno stato molto stabile e neutrale. Insomma, se avevo paura che capitasse un colpo di stato nel mio paese o se il mio paese era in guerra, io andavo in un paese tranquillissimo, come la Svizzera, va tutto bene, metto i miei capitali. Questo a prescindere dalle tasse. È solo nel 1934 che furibamente la Svizzera introduce le leggi sul segreto bancario, che fondamentalmente consiste, semplificando, nel rendere anonimi i conti delle persone che depositano soldi in Svizzera, appunto. Quindi per l'autorità estera era difficile riuscire a risalire quale conto corrispondeva a quale persona. E quindi magari anche se in Italia era illegale andare a spostare i propri capitali in un altro stato dove non ero residente, per non pagarsi le tasse, era difficile per lo stato dimostrare che lo stavo facendo, in quanto non poteva chiedere alla Svizzera a chi corrisponde quel conto, o al contrario, questa persona ha dei conti nel vostro paese o con le vostre banche? No, perché c'era il segreto bancario, quindi non potevano dirglielo. O meglio, non volevano dirglielo. Ed è proprio per questo che per tutto il Novecento la Svizzera ha attratto capitali di ogni tipo da tutto il mondo. Alcuni legittimi e alcuni anche meno legittimi. Di ogni tipo. Tanto che negli anni Ottanta e Novanta era famoso il termine spallone. Era molto comune. Cioè una persona che fisicamente sulle spalle trasportava dall'Italia alla Svizzera un sacco di contanti. Questi contanti chiaramente potevano anche non essere legittimi, potevano essere frutto di guadagni non dichiarati, guadagni in contanti non dichiarati, oppure, ancora peggio, frutto di attività criminali. Tanto che ad un certo punto la Svizzera, come accennavo prima, finisce nella famosa blacklist. Proprio a causa della sua segretezza bancaria. Come funziona questa blacklist? È un elenco di stati in cui se tu vai a trasferire il tuo denaro o la tua residenza, avviene l'honore della prova al contrario. In poche parole devo dimostrare fin da subito che quei proventi non siano criminali. Insomma, danno per assunto che se lo sto facendo sono in mala fede. Devo dimostrare di essere in buona fede. Di solito la legge funziona al contrario. Da per assunto che io sei in buona fede e bisogna dimostrare che io sei in mala fede. L'honore della prova. Con gli stati in blacklist c'è molto più controllo perché appunto tutte le persone che si trasferiscono vengono controllate. In particolare ci si assicura che la residenza estera non sia fittizia. Perché poi quello che succede in molti è che mettono la residenza a chissà dove e poi non ci vanno veramente a vivere e rimangono felicemente nella ridente Italia. Tra l'altro per uno stato come l'Italia è molto dannoso vedere volare via importanti capitali, ingenti capitali in altri paesi. Per cui per questo motivo negli ultimi decenni ha comunque indetto delle campagne, diciamo per riottenere quei fondi, per incentivare le persone a farle tornare indietro. Parliamo per esempio dello scudo fiscale. Si tratta di una politica per incentivare i correntisti italiani in Svizzera a riportare i soldi in Italia con una tassa fissa e poche domande. Per cui il concetto è per favore tornate in Italia voi italiani che vi siete trasferiti in Svizzera. Non ci interessa cosa ci avete fatto con quei soldi, da dove vengono. Basta che tornate, pagate una tassa non troppo alta e siete di nuovo nel nostro bel paese. Una sorta di condono se vogliamo chiamarla così. Hai messo i soldi in un paradiso fiscale? Erano soldi ottenuti in nero? Vabbè, pagaci una tassa e siamo tutti felici. E almeno puoi investirli in Italia. Chiaramente le forze sono due. Se da un lato abbiamo i paesi che controllano sempre di più che le persone non vadano in paradisi fiscali e non facciano cose strane, dall'altro abbiamo anche la pressione fiscale di molti paesi come l'Italia che è sempre più alta, quindi le persone in qualche modo scappano, spesso. Facciamo invece un altro esempio che è un po' diverso. Facciamo l'esempio del Delaware, che da alcuni soggetti è considerato una sorta di paradiso fiscale, anche se ufficialmente non lo è. La caratteristica principale del Delaware, e anche del New Jersey in realtà, non è quella di avere una segretezza bancaria o delle tasse particolarmente basse, ma la prima caratteristica è quella di permettere di fare società in maniera istantanea. Quella di creare la propria azienda con massima facilità. Le regole di incorporazione facile rendono possibile poter acquistare una società a scatola chiusa e iniziare ad operare in meno di 24 ore. Un altro aspetto chiave, infatti, del Delaware e di alcuni paradisi fiscali sono proprio le regole sull'incorporazione. Ah, e per capirci, incorporazione significa creare un'azienda slegata dalla persona che l'ha fondata. Quindi io, anche se sono italiano, posso andare a creare una società in Delaware senza essere residente là. Devo però nominare una persona disegnata in Delaware che si occupi di ricevere documenti fiscali e queste cose qua. Ma non deve per forza essere un fondatore o un socio, ma un agente registrato. E una cosa che fanno in molti è proprio registrare la propria società in Delaware che casualmente non fa pagare le tasse alle società che operano all'estero ma hanno sede proprio là. Insomma, per le società che operano fuori dallo Stato. Questo però avveniva anche nel Novecento, anche qua in Europa, più o meno, nel Regno Unito. Una sentenza importantissima è avvenuta nel 1929 e riguardava la Egyptian Delta Land and Investment Co. La società era registrata a Londra, ma non aveva alcuna attività nel Regno Unito e per questo poteva non essere soggetta alla tassazione britannica, come dicevo prima. Questo creò appunto una scappatoia. Le aziende potevano incorporarsi in Gran Bretagna senza pagare tasse. Questa sentenza si estese non solo alla Gran Bretagna, ma anche a tutto l'impero, varie isole sparse per il Pacifico e tutte le colonie, tra cui le Bermuda, le Bahamas e le isole Cayman. Altri paesi che negli anni si sono conquistati la nomea di paradisi fiscali sono il Liechtenstein, un microstato in Europa, Lussemburgo, sempre in Europa, Panama, le isole del canale, come Jersey e Guerns. Questi paesi offrono una combinazione tra bassi tassi d'imposta, foche tasse, segretezza finanziaria e facilità di accesso ai mercati internazionali, rendendoli quindi posti attraenti per persone o aziende che cercano di ridurre il loro onere fiscale o proteggere il loro capitale. Non ho ancora citato la famosissima San Marino. Come mai parliamo di loro? È un enclave in Italia, San Marino, un microstato da poco più di 30.000 abitanti, ci ho anche fatto un video sul mio canale, ed è a tutti gli effetti uno stato sovrano. Enclave vuol dire che l'intero stato sovrano si trova all'interno del territorio italiano. L'unico confine è con l'Italia, ed è da sempre indipendente dall'Italia, anzi, è molto più antico. È scampato alle conquiste napoleoniche, alla dominazione monarchica e infine alla Repubblica. Per un periodo neanche troppo antico, San Marino era molto attrativo per le imprese perché aveva segretezza bancaria e tasse prossime allo zero. Poi, negli ultimi anni, con degli accordi tra l'Unione Europea e l'Italia, si è riadeguata agli standard europei e adesso non è più né in blacklist né considerata un vero e proprio paradiso fiscale. Si tratta spesso di piccoli stati, perché l'obiettivo è sempre quello di attirare i capitali esteri, che, dato che lo stato è piccolo, possono fare tantissimo la differenza sulle casse dello Stato, a differenza di paesi enormi dove non vale la pena attirare così tanti capitali stranieri abbassando le tasse. Un altro esempio sono le famosissime isole vergini, scoperte da Colombo nel 1493, l'anno dopo della scoperta dell'America, e furono sempre oggetto di contestazione, contestate tra Francia, Spagna, Paesi Bassi, Inghilterra, però nel 1672 vennero annesse ufficialmente all'impero britannico. Queste isole sono considerate ancora ad oggi territorio d'oltremare del Regno Unito, con una combinazione tra autonomia locale e supervisione britannica. Le isole però hanno ancora autonomia in campo fiscale ed economico, ed è per questo che anche loro hanno scelto la strategia di avere tasse veramente molto basse per attirare i capitali esteri. Molto basse, in realtà le tasse sul capitale, le aziende e sull'eredità sono pari a zero. Chiaramente non tutte le aziende usufriscono i paradisi fiscali. Un'azienda molto grande o con tante sedi fisiche spesso fa fatica a fare una roba del genere. Spesso si tratta sempre di singoli individui molto ricchi, piccole aziende molto redditizie che si occupano di servizi e alcune volte più raramente anche di grandi conglomerati e holding che spostano la casa madre in un paradiso fiscale, però è meno frequente anche perché i controlli sono più ampi e stringenti. L'argomento comunque è veramente interessante. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, se eravate informati al riguardo, se avete ancora informazioni in più. Vi invito a leggere in descrizione tutte quante le nostre risorse, la newsletter, il canale di Instagram di Investiamo, tutto quello che c'è in descrizione, anche il nostro codice sconto per Tinaba. Iscrivetevi al canale e ci vediamo con il prossimo video. Ciao! Grazie a tutti